Benvenuto nel mio canale, siamo di nuovo con te per le notizie sui tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere avvisato di tali video più velocemente. Non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Condivisione da Mura Ildram con sua figlia. L'attore Mura Ildram, felice di essere padre per la prima volta, ha condiviso la sua foto con la moglie Eman Elbani e la figlia Mirai. Infine, l'attore, che ha recitato nella serie Teskilat, ha pubblicato la sua foto di famiglia su Instagram. Anche Elbani ha riportato la stessa cornice sulla sua pagina. Ildram ha detto, oltre i miei sogni. Buon sesto anniversario. Siete la mia gioia e la mia felicità, ha detto. Elbani ha dichiarato, Mura, sono una donna speciale e molto fortunata. Abbiamo un marito incredibile, meraviglioso, gentile e di grande cuore nelle nostre vite, ha scritto. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ci vediamo nel prossimo video. Arrivederci.